Siamo alla periferia di Taranto, tra Lama e Talsano, precisamente via Vozzo, una stradina piccolissima ma molto trafficata, tante scuole, una banca e altri luoghi di interesse. Guardate i danni assolutamente evidenti causati dalle radici di questi pini. Praticamente quel piccolo marciapiede esistente è stato completamente distrutto, con le evidenti difficoltà per chi cammina a piedi, ma anche per le auto, perché a breve probabilmente l'asfalto salterà via e quindi con i danni evidenti per le automobili. E qui ritroviamo una nostra vecchia conoscenza, il Cavaliere Alfredo Luigi Conti del Comitato Presidente del Comitato Pro Tempore di Via Mediterraneo, che è proprio questa alle spalle. Ecco, lei torna a segnalare questo problema dopo diversi anni. Il 2011, quando arrivò la sua prima segnalazione, ad oggi la situazione non è cambiata. Assolutamente no. Questa anomalia che non fa certamente bene alla sicurezza dei cittadini, ma specialmente dei bambini che qui frequentano la scuola. Faccio un ennesimo appello al sindaco Melucci e all'assessore Occhinegro di poter intervenire una volta per tutti. E torniamo ad un problema di cui ci siamo già occupati diversi anni fa su Canale 85, Via Mediterraneo, che ad oggi resta senza marciapiedi e quindi ad esempio raggiungere supermercati e attività di interesse. Via Mediterraneo deve essere totalmente asfaltata perché ci sono centinaia di toppe per quanto riguarda l'asfalto. Cioè non sta mica bene perché poi arriva una pioggia e automaticamente quelle toppe saltano. Ricordiamo che lei raccolse anche numerose firme, una vera e propria petizione. Sì effettivamente qualche anno fa io raccolsi le firme che i proposi mediaticamente all'allora giunta Stefano, ma inascoltato come al solito.